... Questa mattina siamo regati al nostro presso per votare, abbiamo scoperto nella nostra sezione, la 236 di Via Pietro Merenda. Non si può votare perché il Presidente stamattina ha deciso di non presentarsi, e a quanto pare insieme a tanti altri. Qua è una vergogna effettivamente, siamo ridotti in questo Stato, ma che cosa volete? Appunto di non volere votare perché noi vogliamo. Io vengo da fuori per venire a votare perché mi dicono che ho un obbligo, specialmente io che sono senza una lira e ho il reddito di cittadinanza. Arrivo qua, tre ore che aspetto e c'è la sezione chiusa, è una vergogna in questo Paese. È un disegno politico chiaro, per cui io come cittadina non penso che queste votazioni sono valide, perché 800 persone che non possono esprimere un voto non è in libertà e democrazia.